cari amici di matto grill benvenuti bentornati ci troviamo in una situazione particolare siamo a casa siamo a casa ai tempi del coronavirus cosa si può fare a casa allora matto grill non si ferma e come vedete oggi ha iniziato ad impastare quindi ha fatto la pasta per la pizza che andremo a cucinare tra poco al barbecue allora queste le abbiamo già stese in realtà sono già in seconda lievitazione e venne ottenuto una parte così vedremo insieme come come distenderla allora abbiamo inserito un po di olio sulla teglia premessa questa è una prima lievitazione l'abbiamo fatta per circa una decina di ore adesso vi dirò anche come come è stata fatta e adesso andremo a stendere per la seconda la seconda lievitazione che verrà fatta direttamente in modo disteso allora è una ricetta questa qua che avevo visto su un libro della della broi king e quindi la ricetta è una ricetta comunque diciamo barbecue è una ricetta che vale per 3 massimo 4 pizze tonde diametro diametro diciamo tradizionale e si fa utilizzando un chilo di farina poi mezzo lievito di birra quindi cubetti classici che si trovano al supermercato 600 grammi di acqua poi 20 grammi di sale e un po d'olio olio due cucchiai allora quando andate a misurare l'acqua e fate l'impasto nei 600 grammi di acqua considerate anche l'acqua che utilizzate per attivare il lievito il lievito si attiva sempre con un po di acqua e un cucchiaino di zucchero dopo di che la avvolgete in una pellicola trasparente come come questa l'abbiamo messo in forno per appunto 10 ore adesso l'abbiamo tolto vediamo vi faccio vedere questa che questa abbiamo utilizzata per fare del nocco vedete come si è rizzato e fra un po lo porteremo in seconda lievitazione allora partendo il presupposto che noi non siamo molto bravi a fare questo impasto quindi vedremo se questa volta la pizza ci viene un po più alta del solito oppure una piattella che insomma secca come a volte a volte capita per fare questo quindi proveremo diverse tipologie di lievitazioni una quindi ci metteremo già in seconda lievitazione anche il pomodoro nelle altre invece ci lasceremo solo l'olio attenderemo circa per la seconda lievitazione una mezz'oretta 40 minuti circa e nel frattempo andiamo accendere il barbecue per una cottura sulla nostra pietra ollare allora abbiamo preso la nostra salsa di pomodoro passate insomma usate quello che più vi piace lo mettiamo sul fornello lo facciamo scaldare leggermente e poi dopo lo andremo a mettere sulla nostra pizza in modo tale che con il calore andiamo a favorire la seconda lievitazione bene allora abbiamo scaldato il nostro il nostro pomodoro aiutante mi sta aiutando mettiamo un po di salsa sopra allora la salsa è leggermente calda cioè non abbiamo portato a bollizione è leggermente calda in modo tale che andrà a favorire appunto come dicevo la seconda lievitazione ok allora la distribuiamo su tutta su tutta la superficie è come una pizza normale poi diciamo che questa è la parte un po più semplice lasciando magari diciamo scoperti i bordi benissimo quindi una volta fatto questo passaggio una volta distribuito tutto lasciamo passare questi 30 40 minuti per la seconda lievitazione speriamo che venga un po più alta dopodichè inizieremo a farcirla con tutte le cose che abbiamo in casa perfetto allora abbiamo messo le pizze in seconda lievitazione allora le ho messe in forno per comodità ma non è perché sto cuocendo serita temperatura a 50 gradi giusto per dargli quella temperatura un po più calda dopodichè aspettiamo 40 minuti le mettiamo sul barbecue benissimo allora portiamo il nostro barbecue a 260 280 gradici e adesso siamo un pochino bassi alziamo ancora quindi temperatura 260 280 abbiamo inserito la nostra pietra per frattare l'interno adesso chiudiamo così teniamo il calore abbiamo tirato fuori il nostro super accessorio questo è un accessorio veramente molto pratico della web la praticità che si può piegare quindi togliendo questa questa vite dopo ve lo farò vedere si piega in due quindi diventa molto pratica e soprattutto occupa veramente poco spazio quindi andremo a metterci un po di farina di semola sulla superficie per evitare di attaccare poi dopo lo andremo a mettere sopra al nostro barbecue allora questa è la nostra pizza dopo la seconda lievitazione lo spessore un po c'è andremo adesso a condirla allora con un po di mozzarella che distribuiamo su tutta la superficie comunque sembra davvero soffice speriamo che sia anche buona perché sicuramente anche bella da vedere guardate ne abbiamo fatte anche altre due molto belle ok finiamo questa distribuiamo la mozzarella in tutte le parti in tutte le zone ecco qua allora mi sembra che sia perfetta poi ho preso un po di scamorza fumicata mettiamo sopra un po distribuita tutta la superficie ok finiamo l'ultimo pochino di che c'è rimasto ok bene poi andiamo via di wuster andiamo di wuster wuster distribuiti un po tutta la superficie maniera più o meno uniforme più o meno perché qua non è che siamo così precisi però vabbè diciamo che più che bella speriamo che sia che sia buona ok allora fatto questo passaggio ci mettiamo un po di sale su tutta la superficie senza esagerare ok perfetto un po di origano pochino è giusto per dare anche eccolo qua direi perfetto e infine un goccino d'olio allora un attimo che ci mettiamo il dito davanti perché deve essere veramente una cosa molto leggera perfetto senza esagerare benissimo adesso inforniamo allora abbiamo mantenuto il foglio di carta da forno potevamo anche metterla direttamente sul sul nostro portapizza però serviva un po di di semola quindi farina di semola che così in modo tale che non si attaccava ok appoggiamo siamo di far veloci chiudiamo facciamo partire il nostro timer ok 9 minuti 9-10 minuti massimo temperatura da 2,60-2,80 va bene qua montiamo il timer e aspettiamo che suoni quando è pronto allora attenzione solo allora sono passati pochi minuti e abbiamo infornate vediamo velocemente ok sono perfette l'unica cosa attenzione la temperatura perché chiaramente quando lo aprite per inserire le pizze si abbassa comunque comunque questa è la situazione in giro non c'è nessuno quindi ai tempi del coronavirus bisogna stare a casa state a casa e se non sapete cosa fare fate questo seguite le nostre ricette seguite i nostri consigli potrebbero vedere la cosa ok proviamo prenderla ok portiamola dentro la tagliamo vediamo se è cotta allora da vedere molto bella sembra anche morbida adesso ne tagliamo un pezzettino per vedere come è venuta un piccolo spicchietto vediamo ragazzi è perfetta non so se si vede scotta la cottura perfetta l'assaggio buonissimo amici di mattogrill consigliatissimo in questo periodo non sapete cosa fare fatevi la pizza al barbecue nel dettaglio vi inserirò tutta la ricetta in bocca al lupo a tutti tenete duro e continuate a seguirci ciao